amici di motorsport.com ciao benvenuti a Varano de Melegari io sono Davide Amaduzzi pilota professionista oggi ho avuto la grande opportunità di provare la formula e generazione 3 di DS automobile tra poco vi racconterò come andava mi infilo nell'abitacolo con il sedile che già era all'interno il sedile è abbastanza confortevole mi trovo anche nella posizione giusta come visuale però mi sembra di essere un pochino troppo vicino al volante mi fanno uscire faccio un giro e non riesco proprio girarlo il volante guido con una mano sola bloccato con il gomito quindi rientro e proviamo un altro sedile ma anche questo è troppo è troppo vicino la generation 3 rispetto alla 2 ha una scocca mi hanno detto molto più piccola e probabilmente proprio per questo ci si deve adattare un pochino e sono costretto praticamente a guidare senza sedile togliamo tutto mettiamo una piccola imbottitura dietro e con questo anche se non è il massimo perché in realtà il mio corpo è libero e gira un po per l'abitacolo però per lo meno riesco ad avere la giusta distanza per le braccia parto e la prima impressione che ho è che la macchina abbia ovviamente poco grip è il primo giro me lo aspetto perché comunque ho la gomma fredda in realtà il grip rimane poco soprattutto sulle curve strette sempre ma è un grip basso ma costante non è un qualche cosa che ti manda in crisi è un qualche cosa che si gestisce nella maniera più assoluta per me la prima volta in assoluto su una vettura elettrica e la formula è ovviamente è il massimo al mondo per le vetture elettriche quindi mi aspettavo qualcosa di completamente diverso da una vettura normale da dentro hai l'impressione di guidare una vera macchina a corsa al 100% senza nessun pensiero a quale tipo di motorizzazione si ha quindi è una sensazione veramente bellissima e l'impressione sia anche che la macchina da portare al limite sia molto difficile una cosa che mi ha abbastanza colpito e che non mi aspettavo qui a varano è l'efficienza dell'aerodinamica che si sente fondamentalmente in un solo punto cioè nella s veloce era nettissima la differenza tra la chicane precedente molto lenta e quindi dove lavora la meccanica e l'aerodinamica non funziona e quella successiva dove invece io alleggerivo ma aiutavo leggermente col gas e freno perché comunque era stretta non si poteva tagliare come normalmente si fa ed era assolutamente facile da fare una cosa invece tecnica molto importante che ho sentito che è la cosa che può fare veramente la differenza è l'uso del freno questa macchina qua ha dei freni particolari perché non ha il classico freno idraulico ha un freno elettrico e quindi mi aspettavo un qualche cosa di veramente molto anomalo la realtà è che sono dei freni fantastici frena benissimo e ha una gestione in frenata in modulazione molto molto particolare quindi è quasi una frenata da formula vecchio stile tanto freno una modulazione molto rapida e poi via il freno e si gira lo sterzo è un qualche cosa che fa la differenza il motore è un'altra di quelle cose che è notevole devo dire che è impressionante come prestazione con i suoi 350 kilowatt ma non mi ha impressionato nel senso che avevo delle aspettative già di quel livello la prova tra l'altro consisteva in teoria in tre step cioè una parte di giri con una potenza 120 kilowatt una parte di giri 200 una parte a 350 in realtà io ho avuto la fortuna di poter fare tutti i giri a 350 kilowatt e quindi me la sono potuta godere al cento per cento mi hanno fatto fare un launch control ovviamente impressionante perché l'elettrico non ha una curva di coppia ma una retta ed è stato impressionante soprattutto la macchina quanto è stabile durante la partenza con il launch control e l'altra cosa che è veramente impressionante che hai comunque modulando l'acceleratore sempre tantissima potenza è una macchina da piloti veri è necessario grande abilità è una macchina che mi ha veramente divertito tantissimo amici di motorsport.com io la macchina me la sono goduta al cento per cento la formula è è veramente una macchina fantastica mi sono divertito tantissimo spero che voi abbiate goduto un po con me di questa di questa nuova esperienza e adesso io sicuramente ho un motivo in più per seguire le gare del campionato mondiale di formula e spero di avere trasmesso a voi un po della mia carica e del mio entusiasmo